Il Comune di Vicenza ha pubblicato quattro bandi per l'assunzione e reclutamento di 25 risorse umane. Si tratta di profili altamente qualificati, ingegneri, architetti, geometri e anche di altro tipo, che serviranno al Comune per portare a termine i progetti del PNRR. I bandi sono già stati pubblicati sul BUR e sul sito del Comune, scadranno il 21 di ottobre, il tempo è poco e auspichiamo un'importante adesione da parte di tutti coloro che fossero interessati.